Non ci credono più, è d'agosto ormai che hanno lanciato un grido d'allarme, sperando che la situazione si sblocchi. La crisi da una parte, la mancanza di lavoro dall'altra, i problemi delle oltre 50 famiglie, riunite nel movimento Famiglie Disagiate di Manduria, anziché risolversi, sono aumentati. Nessun atto concreto e dopo gli iniziali incontri e promesse, adesso sembra che il dialogo si sia addirittura interrotto, come ci hanno raccontato, e la fiducia in questa amministrazione ormai non c'è più. Si trincerano dietro il «non ci sono soldi», ma queste famiglie sono disperate e non possono più aspettare. Un sit-in di protesta si è tenuto in concomitanza con il Consiglio Comunale, mentre fuori ci sono state due persone che si sono legate ai pali, dinnanzi al municipio. Ancora una volta, una protesta ferma, ma composta. Le problematiche sono diverse e continuano a chiedere che il Comune crei occasioni di lavoro, ma qualcuno non sa più cosa dire ai propri figli, alle proprie famiglie. L'altra volta siamo venuti già a protestare, però quanto sembra che non ci danno ascolto, perché ci hanno detto che vogliono formare una borsa lavoro, ma la borsa lavoro non ci fa niente a noi, perché ci danno due euro, uguale che ci danno due euro al giorno, e ci danno duecento euro al mese, però duecento euro al mese. Tu non paghi né luce, non ti compri i vestiti per i bambini e non mangi nel giorno. Allora siamo stanchi di queste cose. Vogliamo o che danno le dimissioni e venga qualche di un altro a governare Manduria, veramente che sa governare bene la ruota politica, e non dicono sempre le stesse cose che ci sono debiti, 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 ci sono debiti. Ma per loro le debiti, ci sono 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 debiti. Voi chiedete un atto concreto dunque di solidarietà. Allora, se il sindaco vuole prendere le responsabilità vere, che lui dice che ci sono tanti problemi a Manduria, ci sono debiti, ci sono debiti, ci sono debiti. Le notizie che hanno sono contrastanti, non sanno a chi credere. Allora, la regione ha stanziato i soldi per le mure messafiche e i soldi non si sanno dove sono andati a finire. Stanno dando l'appalto della Chemipool a una ditta di Bari e poi assumeranno gli stessi operagli perché devono dare dei soldi alla Chemipool. Perché non danno i soldi alla Chemipool invece di fare intervenire altre ditte per spartere i soldi e fare lavorare queste 70-80 famiglie che non hanno lavoro e non hanno veramente da mangiare. O se loro veramente si tengono conto da politici che vogliono aiutare la gente, perché non lasciano i loro guadagni e aiutano le famiglie disagiate. Lo che voglio io è fare qualcosa al sindaco o cooperative sociali o borse lavori, no, non convengono, o piano regolatorio per liberare le edilizie praticamente. Solo quello vogliamo, se non sono all'altezza di andarsene, di dimettersi. Creare lavoro per tutti. Quello che chiedete, non un contributo. Un contributo che ne facciamo, mangiamo oggi e non mangiamo domani. Noi vogliamo 5-600 euro al mese sicuri per poter mangiare tutta la famiglia. Lavoro per tutti. Solo questo. Il contributo che se lo prendessero loro, che ne hanno bisogno. Che non gli bastano le tredicesime e gli stipendi. Purtroppo la mia situazione è disastrata. Io, scusate, sono una ex detenuta. Uscendo dalla casa circondariale mi sono trovata senza alloggio, senza i miei effetti personali. Adesso sto combattendo per la mia famiglia. Perché la mia famiglia hanno chiesto la semilibertà e qualche giorno festivo. Purtroppo per il comune di Manduria, che non si mettono una mano nella coscienza, non posso avere questo privilegio per la famiglia. Io il mio dovere di legge l'ho pagata e vorrei avere un po' di dignità come ex detenuta. Grazie. L'altro giorno, grazie al signor giudice Bruno, pur essendo che siamo poveri, è stata fatta una colletta per poter pagare una bolletta della luce che era stata staccata. Il signore che era stato attaccato alla bolletta della luce aveva due bambini piccolini e tuttora non si sa ancora come si può andare avanti. Sta veramente diventando una cosa disastrosa. Si va al comune a chiedere aiuto, tutto di più, e le solite risposte sono scendi e sali, scendi e sali. Siamo stupi e siamo stanchi. Basta. Non c'è dialogo dunque. Non c'è assolutamente dialogo. Siamo soltanto presi in giro, come se fossimo tutti delle capre. A noi questo non ci sta bene. Adesso basta. Se loro sono qua sopra, sia sindaco, assessore, consiglieri, sono per la popolazione di Manduria che l'hanno votata. Se no, qua non c'era nessuno. Noi chiediamo lavoro, lavoro e lavoro. Questa protesta, diciamo, quanto durerà? Durerà per parecchio, durerà. Abbiamo chiesto di sederci intorno al tavolo, di trovare le soluzioni che ci sono. E loro, come se niente fosse. Insomma, sto capendo che queste cose qua non le vogliono proprio attuare. Stanno facendo i menefreghisti. Voi vi sentite abbandonati? Sì. E questo non sta bene. Non sta bene perché la gente, pure stanca. Allora, sti signori si facessero da parte, no? Che non sono in grado di mantenere un'amministrazione in queste condizioni. Perché devono dare conto anche alla popolazione, devo dare, di Manduria. Non sono stanno Luigi. Siccome è uscito stamattina il sindaco, è uscito, e ha detto no, che non c'è né lavoro. Non può fare niente perché non ha soldi e ha detto che non ci può fare niente. Pronta a questa cosa, voi cosa dite? Allora, noi diciamo che qua non ci spostiamo per tanto che non ne ha una sestimazione. da non ne siamo di qua sopra. E lo deve trovare lui perché lui è il sindaco di Manduria. Perché noi l'abbiamo votato. E allora, se non trova una situazione per tutte queste persone, noi rimaniamo qua fino a Natale. Perché non sono in grado di governare questo comune di Manduria. Devono dare le dimissioni. Tutte, tutte. Ma tutte, tutte. Ma non c'è stato qualche, diciamo, attestato di solidarietà? No, no, non c'è stato proprio niente. Niente. Ci stanno facendo morire di fame. Devono dare le dimissioni al sindaco perché non è bravo fare il sindaco. Appena uscito dal Consiglio Comunale che si tiene nella sala consigliare, l'avvocato Ferretti de Virgilis. Allora, cosa dire in segno di solidarietà a queste famiglie? Ma è chiaro che la manifestazione di queste persone è la conferma che stiamo vivendo un periodo di crisi assoluto. L'amministrazione comunque può fare qualcosa per queste persone. Io prima in Consiglio Comunale ho detto una cosa, penso che sia molto importante. Il settore che muove tutta l'economia, o comunque la maggior parte dell'economia manduriana, è dato dal settore di rizzo e sicuramente dall'agricoltura. Il settore di rizzo è completamente fermo. Fermo anche perché il Comune non riesce a dare delle risposte all'impresa e ai cittadini. Gli oneri di urbanizzazione sono già molto alti e oggi il Comune con una delibera di Consiglio Comunale non ha fatto altro che aggiornare l'indice ISTA e quindi aumentare ulteriormente gli oneri di urbanizzazione. Molti mi dicono un atto dovuto, ma tutti gli atti che stiamo facendo fino ad oggi, dovuti e non dovuti, sono solo volti a aumentare le tasse. Non possiamo più chiedere niente alle persone, sono ormai senza un euro in tasca, non riescono a lavorare perché non ci sono posti di lavoro e non sanno più come fare la spesa. Io quotidianamente ricevo anche nel mio studio legale tantissime persone e vi posso assicurare che ogni sera torno a casa con la disperazione nel cuore. Il settore di rizzo va molto aiutato e non lo possiamo fare con l'aumento delle tasse. Molte imprese mi fermano quotidianamente per strada e mi dicono avvocato, ma come è possibile? Io presento un'istanza, un permesso di costruire al Comune e mi viene rilasciato dopo otto mesi, dopo un anno. Ho degli operai che devo comunque dare delle risposte, devo farli lavorare. E il Comune che fa? Assume tre vigili e un geometra. Ma io penso che ci saremmo aspettati tutti perlomeno un'assunzione paritaria, due geometri e un vigili. Dobbiamo dare uno sprint al settore dell'urbanistica. Io spero che l'amministrazione pian piano trovi qualche soluzione alle risposte di queste persone che non possiamo lasciare a casa. Sono figli del nostro paese. La cosa più brutta e assurda che sta succedendo è che molti di loro stanno lasciando la nostra città per andare altrove, ma anche altrove non c'è più nulla. Anche le famiglie e i bambini. Io sono un genitore, non vorrei mai allontanarmi dal mio figlio e spero che non succeda anche alle altre persone. Quindi noi chiediamo al nostro sindaco, io insieme a loro mi unisco a questa sofferenza e chiediamo di fare qualcosa per tutti coloro che hanno bisogno. Ha bisogno di mantenere le proprie famiglie e di dare da mangiare ai propri figli. Grazie.